presentati Martina Oldani che classe fai? la quarta elementare ti piace andare a scuola? no, non tanto cosa fai quando non vai a scuola? rompo le balle alla mamma e al papà mi balli qualcosa? si fai un appello al pubblico per farti votare votatemi perché io sono Marti ciao